Tentano il colpo grosso alla Chimet, azienda di Badialpino, ma il furto va vuoto e poco dopo la banda viene acciuffata dalla polizia stradale di Arezzo. È successo questa notte attorno all'una e mezzo quattro i banditi entrati in azione. Tre di loro hanno tentato l'irruzione, mentre un quarto sarebbe rimasto fuori in auto pronto per la fuga. La banda di malviventi è riuscita a crearsi un varco per introdursi all'interno dell'azienda tagliando la recinzione esterna, ma a quel punto è scattato l'allarme e ovviamente i ladri si sono dati alla fuga. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza private sono comunque riuscite ad immortalare quattro figure, immagini che però non sarebbero abbastanza chiare e nitide per il buio. L'azienda Retina recupera oro e metalli preziosi da rifiuti speciali. Nel suo cavo custodisce lingotti per cifre da capogiro, ma nelle mire dei ladri troppo poco organizzati per un assalto di questa portata potrebbe esserci stato anche il rame. Dall'azienda comunque non è stato trafugato nulla. Il sistema di sicurezza blindatissimo ha intercettato gli intrusi ed è scattata subito la mobilitazione da parte delle forze dell'ordine. Attorno alle quattro è stata proprio la postrada a fermare un'auto con targa bulgara che tentava di entrare in autostrada. All'interno quattro persone, tutte con vestiti bagnati. Nel bagagliaio invece i ferri del mestiere, pinze, tronchesi, guanti e cappucci. Per i quattro tutti di nazionalità romena pregiudicati tra i 28 e i 42 anni, al momento è scattata solamente una denuncia per possesso ingiustificato di attrezzi da scasso. Le immagini del sistema di videosorveglianza troppo poco nitide non avrebbero infatti dato la certezza che fossero loro i ladri che hanno tentato il furto, ma le indagini proseguono senza sosta. La postrada ha sequestrato sia l'auto che gli attrezzi da scasso.